Settima giornata di campionato per la seconda categoria Girone F al Comunale di Caldarola si affrontano il Caldarola e la Tregliese, una partita che vede nella squadra ospite il suo allenatore, parliamo naturalmente di Micucci che negli anni 97-98 ha regalato tanti gol a quel Caldarola che arrivò addirittura in eccellenza. I due capitani, Nerpiti con il numero 10 e per la Tregliesi con il numero 10, Francucci salutano l'arbitro che è il signor Barbato di Fermo, il Caldarola con Frascarelli, Cecchetti, Innamorati, Frapiselli, Buldorini, Paolucci, Gentili, Pesaresi, Maccari, Nerpiti e Scarpeccio. In panchina Salvucci, Capenti, Barucca, Bianchini, Duca, Corradini e Montecchi, per la Tregliese, Savi, Santa, Anatoia, Balestra, Cappelletti, Branchesi, Moroni, Benedetti, Zenobili, Leonori, Francucci e Cartichini. In panchina Castorani, Arani, Ruani, Monterosso, Cipolletti, Romagnoli e Lausdei. Come detto l'allenatore è Micucci. Calcio d'inizio affidato alla Tregliese, il primo lancio sul settore di destro con la difesa del Caldarola Calameglio. Al quinto minuto, rimessa laterale di Santa Anatoia che trova Francucci di prima. Serve Moroni che cade in aria ma la palla arriva a Cartichini che si smarca. Parte un tiro che però finisce sul fondo. All'ottavo punizione di Nerpiti, il portiere respinge di pugno e Benedetti allontana. Siamo al tredicesimo. Benedetti lancia in profondità Francucci che entra in aria e lascia partire un tiro che Frascarelli, Para e Buldrini allontana. È l'azione del gol che arriva al sedicesimo. Paolucci verticalizza Penerpiti, si gira e cambia lato per Scarpeccio che al volo segna di destro l'esultanza dei padroni di casa e del bomber Scarpeccio che diventa sempre più protagonista. Passiamo al minuto numero ventitresimo. Il Caldarola sta dominando. C'è un calcio d'angolo per gli ospiti. Calcio d'angolo battuto. Paolucci allontana al volo e fa ripartire il contropiede che si conclude con il cross in aria di Gentili. E la sfortunata autorete di De Benedetti che insacca nella sua porta. Vediamo la disperazione del giocatore della treiese nell'autogol, nella rete infilata nella sua rete. Ora andiamo al trentottesimo. Lancio lungo per Cappelletti. Torre aerea di Leonori che allunga per Francucci ma non riesce a superare Fascarelli con il pallonetto. Arriviamo al quarantesimo. Due minuti dopo sempre Francucci che protegge con il fisico. Una palla alzata da Innamorati che scaglia centralmente addosso al portiere Fascarelli che para. Alla quarantatresimo punizione dalla sinistra di Nerpiti che viene allontanata di testa da Leonori sui piedi di Fra Piselli che prima salta Cartichini e poi tira sul primo palo. A Savi però che è attento e devia in calcio d'angolo. Inizia il secondo tempo ma scende in campo solo la treiese perché dopo un minuto di gioco Leonori verticalizza per Francucci che vede serve Benedetti che incrocia con il destro e batte Fascarelli facendosi perdonare per l'autogol. Siamo al cinquantanovesimo. Il Caldarola subisce il colpo e la treiese ci riprova sulla destra con Francucci che supera in velocità Paolucci e entra in aria e serve una palla deliziosa per Cartichini che spreca e spara alto. Sessantanovesimo ci prova Nerpiti a risvegliare la squadra locale con una bella punizione che coglie il montante. Il settantesimo reclama il Caldarola per un contatto in aria tra Montecchi e Cartichini ma l'arbitro lascia giocare ingannato dal movimento accentuato del numero 18 del Caldarola anche se il contatto c'era. Al settantacinquesimo il gol rilancio lungo di Paolucci che viene respinto da Cappelletti sui piedi di Pesaresi che con un destro al volo lancia Maccari che in aria gira e serve Scarpiccio che con una finta si porta la palla sul sinistro e batte Savi per il 3-1 segnando un gol molto bello l'esultanza dei giocatori. Passiamo ora al minuto numero 85, la Tregliese prova a riprendere la partita e Branchesi di sinistro trova Cartichini che scambia con Leonori ma la palla finisce altissima. Arriviamo al novantesimo, Scarpeccio al centro per Maccari che si gira e ripassa Scarpeccio che vede serve Duca che lascia partire una deboli conclusione ma il portiere si lascia scalpare la palla che vede però pronto Maccari per il tap-in. Dilaga il Calderola al novantaquattresimo con Pesaresi, lancio perfetto di 40 metri che trova Duca per la spicciata di testa, serve Scarpeccio che in aria trova Montecchi che si gira con un bel tiro sul primo palo, batte Savi e chiude il match. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!